Lorenzo Monfregola, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo romanzo intitolato Gli Annegati, romanzo pubblicato dalla casa editrice Il Saggiatore, leggono le svolte di copertina che Lorenzo Monfregola è giornalista, collabora con varie testate, tra cui il Tascabile, a Spegna, East-West, vive e lavora a Berlino. Che estate c'è a Berlino, Lorenzo Monfregola? Io in questo momento mi trovo casualmente in Italia, però di solito agosto non è già più estate a Berlino, quindi la vera estate berlinese si svolge a luglio e non a caso il mio romanzo si svolge anche su a luglio, quindi la vera estate berlinese è quella di luglio. Ed è un'estate molto breve, Lorenzo Monfregola con Gli Annegati ci porta a vivere una storia sicuramente molto, molto singolare, che tra poco conosceremo, ma non del tutto per lasciare, ovviamente scoprire il tutto ai nostri ascoltatori prossimi lettori. Ma vogliamo soffermarci, Lorenzo Monfregola, sull'immagine di Copertina che già nella sintesi grafica ci fa respirare l'aria molto pesante, che si respira grazie a questa storia. Sì, l'immagine, sono molto contento dell'immagine di Copertina, tra l'altro è opera di Pietro Sedda, che è un artista e tatuatore di altissimo livello, e l'immagine, sì, esprime molto sia l'importanza dello sguardo che si cerca all'interno del libro, ma anche l'importanza della mancanza parziale di visione del protagonista, della voce narrante del libro, e anche questa condizione molto particolare di potenziale annegamento verticale. Mi è piaciuto molto e mi è piaciuto fin da subito questa idea di una persona che fosse immersa nell'acqua, di un volto immerso nell'acqua, però verticalmente, quindi in una condizione che è quasi perenne, quasi normale, in cui può anche avanzare, in cui può anche continuare a vivere, seppure in una situazione estremamente complessa. Quindi l'immagine della Copertina è sicuramente una delle cose, una delle sorprese più belle che ho avuto collaborando o pubblicando con il saggiatore. Tantissime persone mi stanno parlando di quanto sia bella la Copertina, quindi ne posso essere solo che felice. E qui la storia comincia in un fiume, un fiume che le prime parole sono proprio queste, «Il fiume puzza del mondo intero, io ci sto affogando dentro». Leggendo questo romanzo, Lorenzo Monfregola, con il vizio o l'abitudine, chiamiamola come vogliamo, di sottolineare, è questa frase, «Il fiume puzza del mondo intero, io ci sto affogando dentro». Nella chiusura della lettura andavo a rivederla, perché è la frase che mi ha accompagnato veramente nella lettura, fino a quando questa storia si chiude senza rivelare più di tanto, invece dicendo «Io ci sono, siamo vivi», c'è quel singolare e quel plurale messo insieme, ma inizia in maniera singolare, è un uomo che sta affogando, ma affoga in una moda molto molto particolare. E questo sembra essere un fiume? Forse non lo è. E c'è questa situazione veramente di straordinaria attenzione che ha avuto lo scrittore e la straordinaria curiosità da parte di noi lettori nel continuare a leggere lentamente, perché questo è un libro che va letto lentamente, per vivere insieme a questo protagonista la storia. Sì, l'immagine del fiume è un'immagine che in realtà è stata quasi il principio del libro. Il fiume in questo caso è la Sprea di Berlino, in tedesco si chiama Spree, in italiano si chiama Sprea, e a me interessava molto scrivere un libro, un romanzo, sull'accelerazione e sulla complessità e sulla contatorietà dei tempi che sto vivendo, che stiamo vivendo. E l'idea del fiume, un po' in piena, che scorre a diverse velocità all'interno di una metropoli, che quasi trasborda nella metropoli, era l'idea iniziale del libro. E il tentativo, che poi dovrà essere lettore a capire o a decidere se è riuscito, era quello di mantenere un ritmo fluviale anche nella scrittura, decelerando e accelerando a seconda degli eventi, a seconda delle sensazioni del protagonista. Ed è assolutamente importante e giusto quello che ha detto sul passaggio dal singolare al plurale, perché uscire dall'annegamento, uscire da quella condizione, che ovviamente non è solo fisica, è profondamente fisica e materiale, ma è anche ovviamente esistenziale, è possibile solo nell'incontro con l'alterità, con l'altro. E' proprio nell'alterità, Lorenzo Monfregolo, quando poco fa parlava del fiume, il fiume è un flusso continuo, e anche un flusso continuo sono le relazioni che quest'uomo ama, che abbiamo tutti, perché non è che poi siamo così lontani da questo personaggio. Non è che lui sta da un'altra parte della barricata. No, no, non possiamo permetterci questo, possiamo definirlo lusso, forse sbagliato. No, no, ci somiglia molto questo personaggio. Sì, questa è una cosa molto bella da sentire. Volevo un personaggio effettivamente non eccezionale, che vive in maniera eccezionale un momento che in realtà è abbastanza normale e all'interno di relazioni con persone che comunque non sono spesso ai bordi della società, eppure si trovano in qualche modo a sentirsi o a vivere in maniera borderline. Il personaggio è un personaggio che ho cercato anche andando contro ovviamente lo stesso narcisismo del lettore e dello scrittore, perché è evidente che poi lo scrittore quando scrive in prima persona ha un rapporto abbastanza particolare con la voce narrante. Però ho cercato veramente di andare anche contro tutti i tentativi di rendolo particolarmente speciale e io invece ho voluto un personaggio che sia eccezionale in quello che vive, in quello che fa, ma che soprattutto osserva, parla tantissimo di se stesso, ma in realtà parla tantissimo del mondo. E quindi torniamo all'immagine della copertina, ha lo sguardo sul mondo, ha uno sguardo sorpreso, sgomento sul mondo, perché si sta interrogando su alcune cose materiali. Lui si ritrova nel fiume, nella spera, non si ricorda come e perché, ma in realtà lo sguardo che mi interessava è uno sguardo sulle dinamiche sociali e sulle dinamiche vitali o non vitali all'interno di una grande metropoli. E ovviamente Berlino, che è la città in cui vivo da anni, si è prestata in maniera quasi ottimale per fare questo percorso, per fare questo viaggio. Lorenzo Monfregola, parlavamo poco fa di relazioni, ma parliamo a questo punto, e sono anche relazioni ovviamente, quella della casualità degli incontri. In questo romanzo, nella narrazione, nel fluire della narrazione, il protagonista, Arthur Cipriani, ha degli incontri, degli incontri anche molto, molto fugaci, i classici appuntamenti, quelli tanto per capirci su Tinder. E anche qui è un modo di fermarsi per, e qui ritorno allo sguardo dell'immagine, della copertina, e anche uno sguardo per fermare quell'attimo e comprendere, farne parte di quel mondo così veloce, così possiamo dire anche superficiale, ma il suo sguardo vuole superare la superficialità, anche attraverso un appuntamento virtuale su Tinder, ma vuole cercare, nonostante tutto, una sua profondità. Ci riuscirà? Chi lo può dire? Sì, questo è... Arthur Cipriani è un personaggio che, diciamo che personalmente, per formazione, per culturale, diciamo anche semplicemente per presenza storica, non ha un'impostazione particolarmente religiosa, però sicuramente lo spazio in cui si muove Arthur Cipriani è quello che un tempo sarebbe stato uno spazio religioso, e quindi ha una ricerca che va oltre, diciamo, alla mera presenza e che va oltre al mero avvenire che ha di fronte agli occhi, però al tempo stesso c'è una materialità estrema perché tutto quello che conta nella sua profonda dispersione è hic et nunc, cioè adesso qui è ora, e quindi c'è questa profonda, questa lacerazione che contraddistingue la sua esperienza, che contraddistingue i suoi cinque giorni deliranti a Berlino, in cui si va da una presenza assoluta proprio in quel posto, in quel momento, alla volontà di ricostruire un minimo di geometria e di senso per riconnettersi e riagganciarsi alla capacità di vivere. Questo poi nel romanzo si vedrà molto spesso. Il grande paradosso è che i personaggi che lui cerca, i personaggi che incontra per cercare di riagganciarsi alla vita, in realtà sembrano più dispersi di lui, però riescono in qualche modo, per la forza dell'abitudine o per l'allineamento a dei linguaggi identitari continuamente ripetuti, riescono a continuare a stare nel flusso senza la disperazione iniziale che ha il protagonista. Eh sì, la disperazione forse sta in questa, spero di non sbagliarmi, in questa continua ricerca, no? Possiamo essere d'accordo o non d'accordo, Lorenzo, non frego, sulla ricerca di questo espatriato, però è una prova, è un cercare, torno per esempio qui alle relazioni su Tinder, anche nell'ambito sessuale, no? fino a spingerci alla orgia totale. Anche lì è un modo per entrare in relazione, in connessione e per comprendere il significato di un momento. Sì, possiamo leggerla sotto diversi livelli questa cosa, ma è soprattutto un ricercare, un cercarsi. Sì, la scena che ha creato qualche interrogativo, diciamo che è la scena di una grande orgia in una villa fuori Berlino, è una scena ovviamente che ha molti livelli di significati, diciamo, allegorici e simbolici e sicuramente quello che la contraddistingue è il fatto che il protagonista, nonostante tutto, nonostante passi in mezzo a questo scenario, non ne rifuga, alla fine cerchi comunque qualcosa di diverso. A me interessava molto fare un personaggio che fosse nemmeno un espatriato, ma uno sradicato. Cioè, io non volevo parlare degli expat in maniera molto più tranquilla e diciamo giornalistica. Io volevo parlare proprio di una categoria di persone che hanno lasciato il proprio paese e la propria cultura, anche se all'interno, diciamo, del privilegio europeo, fino a essere sradicati. Cioè, sono posti identitari senza far parte ancora del privilegio cosmopolita, ma non hanno neanche più nessuna nostalgia consolatoria di riagganciamento alle tradizioni. Quindi mi interessava un personaggio che vaga negli intestizi e che non a caso, poi nel romanzo, finisce per trovare le forme di gioia all'interno della periferia, cioè, uscendo dal sistema metropolitano, diciamo, più accettato e più ricercato e andando a cercare vita di nuovo negli intestizi della metropoli. Chissà quali saranno questi intestizi della metropoli, quali saranno queste, possiamo chiamarle ferite. rischiamo una parola fra le tante, sicuramente, e anche questa è una parola che per me è fondante in questa storia, sembra così lontana, la parola è amore, no? Perché poi, bene o male, ricerca anche questo Artur Cipriani. Sì, questa è una domanda a cui rispondo molto volentieri. Spero di non aver deviato la sua scrittura con questa affermazione, perché non si sa mai. Il lettore a volte si fa dei suoi percorsi, ovviamente. No, no, invece questa è una cosa di cui sono molto contento, perché spesso mi viene detto che il libro è molto violento, è molto cinico, c'è una sessualità estrema, ci sono situazioni molto estreme, però effettivamente io alla fine l'ho anche pensato come una storia d'amore e penso sia molto importante anche proprio nell'economia, adesso uso un termine brutto, nell'economia esistenziale del protagonista capire che senza l'amore non ci sia nessuna possibilità di scampo per quel personaggio e quindi in realtà mi interessava molto non fare un attesto solo estremo e inserire poi anche questo percorso di amore perché poi chiunque conosca una qualche specie di inferno letterario o personale sa che alla fine poi le risurrezioni passano attraverso sentimenti verso l'altro o verso condizioni molto semplici di incontro con l'alterità quindi è fondante io ogni volta che mi viene chiesto di cosa parla il libro provocatoriamente dico addirittura che è una storia d'amore ovviamente non è solo quello ma mi piace presentarlo così ed è ovviamente anche una storia sull'impossibilità dell'amore o su cosa sia oggi diventato l'amore o sulla sua complessità sul suo futuro su cosa siano oggi le relazioni per una generazione la mia che vive diciamo tra il privilegio estremo e la disgrazia e la disgrazia storica però Lorenzo non fregola prendo come spunto la parola futuro a proposito dell'amore è un futuro distopico quello che potremmo pensare io probabilmente qui da un punto di vista letterario essendo stato molto influenzato dalla letteratura cyberpunk ci sono dei delle parti ci sono delle atmosfere ci sono dei linguaggi che puntano verso la distopia però io ho pensato il libro in maniera accelerata mentre stava l'accelerazione dove conduca questa accelerazione non lo dico perché io penso che nessuno in questo momento sia in grado di dirlo penso che tutti siamo abbastanza concordi che da un punto di vista esistenziale della società umane siamo di fronte a un'estrema accelerazione potremmo parlare adesso per ore di quanto sia importante il ruolo della tecnologia nel libro cioè il libro racconta perennemente il rapporto tra l'umano e il tecnologico quindi non penso sia obbligatoriamente distopico penso che sia molto reale nello sguardo che si ha verso un futuro incerto e incognito è anche un po' angoscioso questa parola è una parola che ha una sua cittadinanza in questa storia perché necessariamente a dei momenti dove adesso sto cercando la sottolineatura dove dove la parola angoscia eccola qua è molto presente ad esempio ad esempio l'angoscia alla fine è una forma di forza un fuoco da sfruttare quindi io ora mi occupo di me stesso sai cosa vado a vedermi il fiume guardare un fiume o il mare mi serve sempre sto bene ed è tutto sotto controllo da quel fiume dove lui stava per annegare invece il fiume è quel luogo che gli dà forza per superare l'angoscia è un po' un passaggio obbligato no di passare dentro quel fiume quasi come una forma di purificazione per arrivare poi a vederlo in un'altra forma Lorenzo Monfregola sì è sicuramente un passaggio però un passaggio molto violento come poi adesso non non è una purificazione di per sé quello che quello che per me era molto importante era non rifugire questa angoscia io penso che c'è tantissima a me se non concesso che io abbia scritto qualcosa che sia all'altezza della letteratura ma c'è tantissima letteratura diciamo un po' consolatoria o comunque un po' educativa che rifugge l'angoscia oppure quando quando l'affronta l'affronta solo come quasi un manuale di superamento a me interessa un personaggio che riesce a vivere nell'angoscia e riesce a vivere nonostante l'angoscia dei propri tempi e riesce a essere perfettamente funzionale a un certo punto nonostante l'angoscia e quindi c'è questo passaggio che dice della trasformazione dell'angoscia in forza e del riconoscimento dell'angoscia dove il rapporto con questa forza quasi naturale il fiume è l'unico elemento naturale che praticamente sfonda questa città questa metropoli ultra tecnologica e ultra confortevole capitale del divertimento capitale della della notte che non dorme mai e quindi mi interessava inserire questo elemento molto ancestrale senza però inserire un'illusione un po' panteistica che sia sempre risolutiva che la natura sia risolutiva che la natura sia benevola che il ritorno di certo mi interessava andare in fondo all'esperienza umana all'interno della metropoli ovviamente intesa nella sua nella sua torretarità nella sua complessità vorrei però riprendere prima di chiudere questa conversazione Lorenzo Monfregolo e poco fa parlava di consolazione e letteratura quando è che la letteratura diventa consolazione mi è venuto in mente un libro a me molto caro un piccolo libro di Stig Dagerman Il nostro bisogno di consolazione ecco ed è un libro a cui vado ogni tanto a rileggere qualche frase però quando è che leggendo un libro la letteratura diventa anche consolazione ma adesso nel caso di Dagerman la sua stessa biografia mostra che poi non fu molto consolatorio no ahinoi mi piace tantissimo parlare di Dagerman perché il bambino bruciato è stato uno dei libri che più mi ha colpito quando l'ho lesso ero molto giovane e io penso che un conto è trovare una forma di coraggio nella letteratura che è quello di cui abbiamo assolutamente bisogno so che la parola coraggio è ormai usata abusata oppure distrattata penso che sia invece poco utile quando la letteratura diventa consolatoria nel suo volersi fare educativa mi è capitato già due volte di sentire persone che mi hanno detto che il mio libro è tendenzialmente diseducativo che è una cosa che mi fa un po' ridere perché io penso che ecco il diseducativo è pensare che il lettore debba essere educato e quindi il libro per esempio che ho scritto nel mio piccolo escono milioni di libri ogni giorno quindi è un tentativo minuscolo in un fiume in piena complessivo e questo tentativo è appunto di cercare non una consolazione ma di cercare una qualche forma di coraggio di trasmettere una qualche forma di coraggio guardando in faccia in profondo sia i demoni sia i dolori che le gioie e le migliori possibilità che ci sono in questo momento per la mia generazione e per chiunque viva esperienze simili a quelle che vengono raccontate nel mio libro Lorenzo Monfrego l'autore del romanzo Gli Annegati il romanzo pubblicato dalla casa editrice e il saggiatore prima di salutarci invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Io adesso in realtà mi sono rimesso a leggere probabilmente per la millesima volta Henry Miller che reputo un autore eccezionale lo sto leggendo in inglese reputo un autore eccezionale al di là dell'esame della vulgata che lo rappresenta come autore autore unicamente diciamo interessato alla sessualità o alla dissolutezza ma lo trovo eccezionale proprio nel ritmo io ho una passione particolare per tutti gli autori che sanno catturare che ignorano un po' lo storytelling diciamo la necessità della trama la necessità del plot che sono tutte cose che ormai vengono fatte benissimo per esempio sulle serie di Netflix quindi non penso che sia necessario inseguirle e mi interessano gli autori che creano un percorso parola dopo parola accelerando quindi in questo momento dopo aver finito il mio libro mi sto godendo di nuovo la lettura di Miller e in generale però ho letture molto disordinate leggo cose di ogni tipo ultimamente ho letto di nuovo Rumi Gialal Aldin Rumi che è un poeta mistico persiano molto interessante oppure leggo anche diciamo libri che si occupano di altri argomenti come giornalista mi occupo tanto di politica internazionale o di terrorismo o di violenza politica quindi leggo anche testi di questo tipo però cerco di leggere veramente di tutto perché appunto in quanto rappresentante di una corrente di sradicamento o una ed è caduta la linea con Lorenzo Monfregola a questo punto cerchiamo di recuperare la linea con Lorenzo Monfregola vediamo se riusciamo a riaverlo di nuovo in diretta eccoci qua era caduta momentaneamente la linea su quanto stava dicendo e vuole riprendere le parole che ci stava dicendo prima della caduta di pochi secondi fa no dicevo che in quanto proprio essendo affezionato all'idea dello sradicamento cerco di leggere appunto libri di ogni tipologia e quindi penso che questo sia necessario anche per sviluppare una letteratura un pochettino più sporca sicuramente non leggo solo in italiano questo sicuramente ha influito anche sugli annegati cioè aver letto tantissimo in lingua straniera e non aver letto unicamente i libri in italiano o in traduzione italiana e questo vabbè è evidente dal momento che gli annegati è pieno di inglese addirittura di tedesco mi rendo conto che è stata una scelta abbastanza coraggiosa ed estrema ma non c'era altro modo di scrivere un libro del genere grazie grazie davvero Lorenzo Monfregola per il tempo che ci ho dedicato per raccontarci il suo romanzo gli annegati buona giornata buona giornata a voi